Le aziende di Conservizi Veneto erogano servizi a 4 milioni di abitanti, tutti gli abitanti del Veneto. Servizi idrici, igiene ambientale, trasporto pubblico, fornitura gas. A Padova la 45esima Assemblea Generale di Conservizi Veneti ha fatto il punto sullo stato di salute e le prospettive future delle imprese di servizi. Dagli anni 90 realtà piccole, locali e frazionate si sono evolute in aziende di grandi dimensioni, con un fatturato complessivo cresciuto più del 30% negli ultimi dieci anni, che oggi supera i 3.400 milioni di euro. Tutte le nostre associate, che rappresentano quasi la totalità delle società di servizio pubblico del Veneto, vantano bilanci ampiamente inutili. L'Assemblea è stata anche occasione per presentare due nuove applicazioni, Geo.Works, che consente di dirigere in modo integrato l'istruttoria tecnica e le procedure amministrative legate alla gestione del suolo pubblico, e da A a B. Per la prima volta in Italia un unico portale permette di pianificare un viaggio con diversi mezzi di trasporto pubblico, dagli autobus al tram ai vaporetti e con l'acquisto di un unico biglietto.